Un upgrade necessario almeno per chi desidera prestazioni maxi ma a portata di mano. Parliamo di Aprilia SRV850 ABS e ATC che per il 2013 introduce visto i valori espressi l'elettronica necessaria a tenere sotto controllo le prestazioni dello scooter più potente della categoria. Per i vertici di Aprilia si tratta dell'anello di congiunzione tra moto e scooter e c'è da credergli vista la bontà del mezzo che mantiene inalterate le caratteristiche del modello base. Bicilindrico raffreddato a liquido, iniezione elettronica con distribuzione a 4 valvole per cilindro, telaio a doppia culla in tubi d'acciaio e prestazioni di tutto rispetto. 76 cavalli e una coppia massima di 76 Nm. 200 km orari invece quanto siamo riusciti a strappare alla strumentazione anche se in condizioni diverse la Aprilia SRV850 avrebbe potuto fare di meglio. Nel traffico di tutti i giorni si comporta come uno scooter qualsiasi, agile, veloce, si gira e si volta in un fazzoletto di asfalto. L'interasse importante del 1593 mm in tali frangenti non ostacola più di tanto grazie all'ottima distribuzione dei peli. Impressiona positivamente invece quando la strada inizia a piegare, quando le curve si trasformano in un incessante videogioco destra-sinistra. In questo caso l'SRV cambia ritmo mostrando un altro carattere. E poi un pacchetto elettronico composto da ABS e ATC. Il primo tarato per una guida allegra o se vogliamo medio sportiva, quindi per nulla invadente e limitante, lavora in simbiosi con due pinze flottanti a doppio pistoncino, Brembo serie oro e due dischi da 300 mm di diametro. Mentre il controllo di trazione può essere settato su due livelli, differenti, sport e standard e all'occorrenza disinserito. Quindi moto o scooter, visti i valori espressi, moto e scooter, anzi di più. Il nuovo Aprilia SRV 850 ABS e ATC è una moto versatile come uno scooter, ma allo stesso modo è uno scooter che si guida come una moto. Concetti contorti? La parisiani per noi, opposti, ma con l'RSV 850 decisamente simili. Di sicuro resta un prodotto di carattere capace di regalare non poche emozioni e divertimento.